Pensiamo che nel campo dell'ecologia che oggi sta diventando molto di moda, nel campo della sostenibilità che è uno dei valori più importanti, oggi il fatto di avere i tessuti senza tinture sia un valore aggiunto molto più elevato che non le dichiarazioni di bio o altre dichiarazioni che non sempre danno una certezza al prodotto. Noi diamo la certezza al prodotto senza tinture, riteniamo sia un valore non indifferente e quindi pensiamo che questo mercato lo ricepisca e sia un valore nel prodotto.